musica eccoci con il footsoccer eh non è benvenuto ah non la squadra prima il footsoccer prima la squadra e poi il singolo bravo prestazione strepitosa migliore in campo primo tempo chiuso solo su 1 a 0 grazie a tutti eh vabbè ragazzi non è merito solo io a mettere tutti quanti loro infatti c'era un po' salutate la capolista 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 ormai questo primo posto è la nostra la nostra l'obiettivo minimo è la semifinale ti dico solo questo ha dichiarato direttamente la semifinale grazie